Musica Amministrative 2016 Donato Fiore e Volentini dichiarano Sono tanti anni che faccio politica e non è il caso di ripropormi Sassano presentato in conferenza stampa il torneo dedicato alla raccolta fondi a favore di Nick Di Brizzi Sant'Arsenio tutto pronto per il congresso Mangi sano e stai sano Cascina Don Andrea la regina sul viaggio in nome di San Cono Polla domani il torneo triangolare con i rifugiati dello Sprar Buongiorno ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le Uno News In primo piano la politica Siamo ancora lontani dalle elezioni amministrative in programma la prossima primavera Ma già si scaldano i motori Tra i comuni che andranno alle urne ci sarà anche Montesano sulla Marcellana E ai nostri microfoni il sindaco uscente Donato Fiore e Volentini Annuncia che non si ricandiderà Ma ascoltiamolo Per la verità ho già detto in proposito che cosa intendo fare Ritengo che la mia esperienza è già lunghissima Faccio politica da quando ero 18 anni Non ti dico quanti anni ho Ma siamo oltre a cinquantina d'anni di politica attiva Quindi da questo punto qua credo che non sia proprio il caso Di potermi riproporre per la politica Perché fa la politica locale Non ci vogliono le grandi menti Non ci vogliono i grandi personaggi Ci vogliono i lavoratori Perché oramai una politica non è più quella di una volta In cui basta dirigere dall'alto e si risolvono i problemi La politica locale è diventata partecipazione continua Conoscenza del territorio e dei problemi del territorio Quindi per poter far questo bisogna pure avere la forza morale e fisica Per poterla portare avanti Io mi auguro di aver creato intorno a me un gruppo di giovani Che potrebbe tranquillamente riproporsi insieme ad altri Naturalmente non sono né io né loro i depositari del verbo Però se riescono a creare una buona squadra C'è la possibilità di fare bene Indipendentemente dalla mia persona E adesso la cronaca Due gio Un giovane deferito per furto aggravato Un altro multato per abusivismo Continuano di fatti le attività di controllo E le indagini su tutto il territorio del Vallo di Diano Da parte della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina Continuano le attività di controllo ed indagine Su tutto il territorio di competenza Da parte della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina Guidata dal Capitano Emanuele Corda Che nelle ultime ore ha deferito uno giovane Per furto aggravato a Sala Consilina Ed elevato una sanzione di oltre 5.000 euro E proposto la misura del foglio di via Per un abusivo assassano In dettaglio nella mattinata A termine di attività di indagine I militari della stazione di Sala Consilina Hanno deferito in stato di libertà Un giovane ragazzo salese Per il reato di furto aggravato L'uomo infatti nei giorni scorsi Si era impossessato di una carta di credito In un'abitazione di un anziano pensionato Prelevando successivamente La somma di circa 1.800 euro Dai postmat della zona Parte dei contanti È stata poi restituita alla vittima Nella giornata di ieri invece I militari della stazione di Sassano Nell'ambito dei servizi predisposti Dalla Compagnia Carabinieri Tese a reprimere L'abusivismo commerciale Hanno elevato la sanzione amministrativa Di 5.164 euro Nei confronti di un pregiudicato napoletano Intento a vendere abbigliamento Senza avere la necessaria licenza Il giovane è stato anche proposto Per la misura di prevenzione Del foglio di via obbligatorio Per tre anni Ritorniamo a Montesano Sulla Marcellana Dove con apposita delibera di giunta Il comune è pronto ad avviare i lavori Per il comportamento della scuola media Di Montesano capoluogo Obiettivo è rendere fruibile Agli studenti ma anche ai giovani Al pomeriggio Le strutture al momento Inutilizzate Con una nota stampa Il comune di Montesano Rende noto che con delibera di giunta Numero 125 Dello scorso primo settembre L'amministrazione ha deciso di avviare Le opere di completamento Della scuola media di Montesano capoluogo Che ad oggi risulta Sventrata e non utilizzabile I lavori di completamento Della scuola media di Montesano capoluogo Dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Rinaldi Verranno eseguiti attraverso il recupero Da parte di questa amministrazione Di somme parenti Ex legge 219 dell'81 E parte opere pubbliche Con le economie recuperate Riteniamo poter completare E rendere fruibili diversi locali Da utilizzare sempre per uso pubblico E nel contempo adeguare Ad ammodernare La palestra adiacente Lo stabile Per un uso proficuo Degli alunni la mattina E dei giovani tutti Il pomeriggio e la sera Va riconosciuto Prosegue Rinaldi Un ruolo di stimolo continuo Da parte del nostro sindaco Donato Fiore Volentini Che ha sempre cercato Opportuni finanziamenti Per il completamento Sia di quest'opera Sia di quella simile Avviata a Prato Comune Ritenendo Di portare a compimento Lavori già avviati E mai conclusi Questo è segno Di una buona ed oculata Amministrazione Peccato constatare Che i tanti finanziamenti Promessi per l'edilizia scolastica Dai governi Di questi ultimi anni Si sono rivelati Essere solo specchietto Per allodole Ma tante facciamo Quando possibile Da soli Ora Conclude Rinaldi Spetta all'UTC Settore 1 Avviare progettazione Gara affidamento Lavori Per dare impulso Al cantiere E perché no Offrire con questo Ulteriore lavoro pubblico Da avviare Una ulteriore possibilità Di lavoro Al settore delle edilizie Così importante Per il nostro territorio Che non vive Un momento economico felice Cambiamo argomento Questa mattina Si è tenuta La conferenza stampa Di presentazione Del torneo Organizzato Dall'associazione Attivamente E finalizzato Alla raccolta fondi Per Nick Di Brizzi Un concittadino Che vive a New York E che è in attesa Di un duplice Trapianto polmonare Questa mattina Conferenza stampa Di presentazione Del torneo Diamo una mano A Nick Il giovane originario Di Sassano Affetto da fibrosi Cistica polmonare Un'iniziativa promossa Dal gruppo giovani Di attivamente Di Silla di Sassano Alla conferenza stampa Di presentazione Di questa mattina Erano presenti Oltre ai ragazzi Del gruppo di Attivamente Il presidente Dell'associazione Valentino Di Brizzi Don Bernardino Abadessa Parroco della chiesa Della Madonna di Pompei Di Silla di Sassano Il capitano Della compagnia Carabinieri Di sala consiglina Emanuele Corda Il referente Per il distaccamento Dei vigili del fuoco Di sala consiglina Il capo squadra Eugenio Siena E ancora Cono Federico E Antonio Viglietta Rispettivamente Responsabili Della banca Montepruno E della BCC Di Buonabitacolo Entrambe le banche Oste a partecipare Con una loro formazione Al torneo Ha neanche aperto Un conto corrente Gratuito Per la raccolta Di fondi Nel corso Della conferenza stampa Qui hanno partecipato Anche i familiari Di Nick Vi è stato un collegamento Telefonico Con il giovane Di Sassano Al momento A Stanford In attesa Del trapianto A seguire Le estrazioni Degli abbinamenti Delle squadre Per il torneo Dell'11 ottobre Con le gare In programma Alle ore 9.30 10.45 E alle ore 12 Adesso Gli eventi Tutto pronto Per la due giorni Di Mangi Sano E Stai Sano Il congresso Organizzato Dall'Associazione Sani Salute, Ambiente Nutizione Ed Imprenditorialità Preseduta Dal dottor Marmo Una a due giorni Dove si parlerà Di alimentazione Il prossimo 2-3 ottobre A Sant'Artenio Presso l'auditorium Dell'Istituto Tecnico Sacco Si terrà Il congresso Dalla titolo Mangi Sano E Stai Sano Organizzato Dall'Associazione Sani Preseduta Dal dottor Riccardo Marmo Insieme All'Asile Di Salerno Con il Patriucinio Dell'Università Per Expo 2015 Comitato Scientifico Del Comune Di Milano Expo 2015 L'Ordine Dei Medici Degli Odontoiatri Della provincia Di Salerno L'Ordine Dei Medici Veterinari Di Salerno E il Comune Di Sant'Arsenio Partner Partner Della manifestazione Il Parco Nazionale Del Cilento Vallo di Diano E Alburni Il Gall Vallo di Diano La Banca Montepruno La BCC Di Buonabitacolo Il Consorzio Centro Sportivo Medidionale E Blue Trade Al centro del Congresso Diverse discussioni Su argomenti Dedicati all'alimentazione La due giorni Sarà suddivisa In quattro sezioni Sabato 2 ottobre Si parte al mattino Con il tema Mangiare Mediterraneo Modello di alimentazione E stile di vita Al pomeriggio Invece Si discuterà Dell'ambiente Di produzione E la qualità Dell'alimento Domenica 3 ottobre Invece La terza sessione Avrà come tema centrale Aspetti di prevenzione E rischio di malattia Al pomeriggio Ultimo tema del Congresso Sarà l'alimento sano E il mangiare consapevole Una nuova opportunità Imprenditoriale In tardo pomeriggio La chiusura Della Kermess L'iscrizione Alla due giorni È gratuita Ma dovrà pervenire Agli organizzatori Entro il 28 settembre L'evento Ai fini di educazione Continua in medicina È rivolto A 90 medici chirurghi Di tutte le discipline 30 veterinari E 30 infermieri E vi ricordo Che questa sera Come ogni giovedì Ritorna l'appuntamento Con l'Angolo Cusati Ospiti di questa puntata Dell'Angolo Il presidente Del Rotary Club Sala Consilina Vallo di Diano Giuseppe D'Amico E l'Avvocato Giuseppe Sabella Consigliere segretario Del Consiglio Dell'Ordine Degli Avvocati Di Lago Negro Con il quale È stato tracciato Un profilo Dell'Avvocato Alfredo De Marsico Nel trentennale Della sua morte Il maestro Alfredo De Marsico Avvocato Ricinario Di Sala Consilina È tutt'oggi Considerato Tra i principi Tra i principi Del foro Scusate Di tutta Italia E tra i massimi Esponenti Dell'Avvocatura Definito Il mago Della parola Il grande Edoardo De Filippo Lo definì Un grande maestro Sulla scena Della vita Con questa news Chiudiamo La prima parte Del nostro notiziario A tra poco Con la seconda parte Seconda parte Dell'edizione pomeridiana Delle Uno News Andiamo a Sassano Dove a partire Dal prossimo 28 settembre La cooperativa Sersa Ha organizzato Due sedute Di cure termali Presso le terme Di Vulpacchio A Contursi L'iniziativa Rientra Nelle attività Organizzate Dai volontari Della cooperativa E finalizzate A cercare Di migliorare Laddove è possibile La qualità Della vita Delle persone Continuano Le iniziative Promosse Dalla cooperativa Sociale Sersa Di Sassano Da lunedì 28 settembre Fino al 10 ottobre La cooperativa Diretta Da Angelo Russo Ha organizzato Una serie Di appuntamenti Per le cure Termali Della durata Di 12 giorni L'iniziativa Finalizzata A favorire Il benessere Della persona Indipendentemente Dall'età Viene riproposta Ogni anno Ormai da Quattro edizioni E consente Di trascorrere Una mattinata In terra Presso le terme Di vulpacchio Di contursi Dove i partecipanti Avranno la possibilità Di effettuare Sedute Di cure termali L'iniziativa Rientra Tra tutta Una serie Di attività Che la cooperativa Composta Da un gruppo Di volontari Pone in essere A favore Delle persone Senza focalizzare L'attenzione Su particolari Disagio Su patologie Pur essendo Composta Da persone Che hanno Una lunga Esperienza Nel settore Sociosanitario La cooperativa Sers Attiva dal 2003 Cerca di dare Ampio spazio Tutte quelle che possono Essere le necessità Della persona Vista nella sua Interezza E per il suo Benessere Con particolare Attenzione E bisogno Di natura sociale Assistenziale Sanitaria Ed educativa Viste anche Le crescenti Necessità Che si registrano Nell'attualità L'impegno Dei volontari Della cooperativa Con sede a Sassano In corso Umberto I È sin dal momento Della sua costituzione Finalizzato a migliorare La qualità di vita Delle persone Cercando di individuare Quelle che possono essere Le principali esigenze E primari bisogni E quindi Individuare Le possibili modalità Di intervento Da quattro anni Anche rispondendo Ad un'esigenza Manifestata Oltre che a offrire Momenti di socialità E di benessere La cooperativa sociale Sers Organizza un periodo Di cure termali A partire dal 28 settembre Tutte le mattine Dal centro storico Di Sassano E precisamente Dalla Fontanella Partirà un autobus Che accompagnerà Le persone A contursi terme Per le cure termali Il rientro È previsto Per le ore 12 Dello stesso giorno 12 le sedute previste Non vi sono limiti Di età Per la partecipazione E per coloro Che usufruiscono Dell'esenzione ticket Le cure saranno gratis Chiunque voglia partecipare Deve munirsi Di impegnativa medica Per ulteriori informazioni È possibile contattare Direttamente La cooperativa Sers Presso la sede di Sassano Oppure tramite mail All'indirizzo Cooperativa Punto Sers Chiocciolagmail Punto com Oppure contattare Direttamente Telefonicamente I responsabili A Cascina In provincia di Pisa Risiedono molti cittadini Di Cetteggiano E dopo il viaggio In terra toscana In nome del santo patroni Teggiano San Cono Don Andrea La Regina Presidente Della fondazione Anti-usura Nasciac Ai microfoni Di Pietro Cusati Ha raccontato L'esperienza Di questo viaggio Insieme a tanti fedeli Del valo di Diano E al vescovo Della diocesi Di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca E' chiaro che San Cono E' protettore di Teggiano Della città di Teggiano Ma anche della diocesi Quindi domenica Abbiamo vissuto Un momento molto bello Molto significativo Molti di Teggiano Ma anche di Sassano E degli altri paesi Del valo Della diocesi Siamo riuniti Nel santuario Della Madonna Dell'acqua Cascina Con la presenza Del vescovo De Luca Per celebrare In onore di San Cono E' stata benedetta Una statua Creata Ex Nomo Lì Da un artista locale E poi siamo stati In convivio A pranzo Tutti insieme Che cosa viene fuori Andando in giro Che i nostri Pionieri Che sono partiti 50-60 anni fa Vogliono Diciamo Ricreare La realtà storica E culturale Il culto del santo Ma anche le tradizioni Ripetendo Tra virgolette E adattandole al luogo Tutto ciò Che viene fatto Nel paese Quindi La celebrazione Della messa In altri posti Tipo San Mauro C'è la processione C'è i fuochi d'artificio C'è la luminaria Questo Dà ai nostri Il ritrovarsi E loro vogliono A tutti i costi Coinvolgerci È stato bello Perché c'era il coro Della cattedrale Anche C'era alcuni Del comitato E c'erano delle famiglie Che sono venute Date già Non hanno passato Due giorni Insieme Con parenti E amici Questo è un messaggio Molto forte Anche per i giovani Giovani Comunicate Con i nostri Perché i nostri Sono stati capaci Partendo dalla povertà Dal bisogno di lavoro Di creare E di contribuire Allo sviluppo Di quelle zone Quindi anche dal punto di vista Non in termini concreti Di attività Lavorative Ma veramente Di esperienza Di tipo Culturale Perché le nostre radici Sono delle radici Molto forti E io Spingerei anche I giovani A dire Andate Dove si venerano I santi I nostri protettori Si fa la festa Perché sperimenterete Un'identità forte Che è capace Di mantenersi E di integrarsi Nel luogo Dove si trovano A vivere Perché portati Dal bisogno di lavoro Ma sempre con il cuore Qui rivolto Alle radici E adesso Parliamo di sport In modo Non proprio Diretto Infatti domani A Polla Si svolgerà Un triangolare Che vedrà coinvolti Tre squadre Composte due Dai rifugiati Dell'Esprar Di Caggiano E l'altra di Polla E da una delegazione Una compagine Chiamata Gli amici Di Polla Domani pomeriggio Questo triangolare Si svolgerà Allo stadio Medici È un modo Per far integrare I rifugiati Con le comunità Locali E soprattutto Creare Relazione Ed amicizia La cooperativa sociale E gli amici Di Polla Alla presenza Del vescovo Della diocesi Di Teggiano Policastro Sua eccellenza Monsignor Antonio De Luca Del sindaco Di Polla Rocco Giuliano Del presidente Della cooperativa sociale Terzium Millennium E di Don Vincenzo Federico Direttore Della Caritas Diocesana Di Teggiano Policastro In campo I richiedenti Asilo E rifugiati Provenienti Da Nigeria Somalia Gambia Ghana Mali Costa d'Avorio Ospiti Delle strutture Sperar Di Polla E Caggiano Attualmente A Polla Il progetto Avviato Ad aprile 2014 Prevede 23 posti ordinari E 12 aggiuntivi Sul territorio Salernitano Invece Sono presenti Inoltre Altre strutture Gestite Dalla cooperativa Terzium Millennium E l'associazione Il sentiero Dei comuni Di Padula Sassano Roscigno Eboli Ponte Cagnano Faiano Santa Maria E Roscigno Le nostre comunità Del territorio Di Cesano Dice Don Vincenzo Federico Hanno dimostrato Fino ad oggi Grande apertura E rispetto Alla tematica Dell'accoglienza Dei migranti Non abbiamo mai Scontrato Barricate Proteste di piazza Né da parte Delle istituzioni Né da parte Dei cittadini E qui Come in altri contesti Ad esempio Montesano Sulla Marcellana Lo sport La musica E la scuola Sono stati Gli elementi forti Che hanno consentito In maniera naturale Che tra migranti E residenti Si creasse Relazione Ed amicizia Con questo servizio Dice Don Vincenzo Dice Don Vincenzo Dice Don Vincenzo